beh ragazzi sono il pomone collector buon mercoledì e benvenuti in questo video diciamo speciale molti di voi in realtà hanno indovinato nei commenti dello scorso video in quanto oggi andremo a vedere diciamo i miei migliori affari da quando ho cominciato a collezionare vi dirò la verità non sono convintissimo di queste scelte perché comunque andando a vedere gli acquisti che ho fatto gli acquisti ottimi ce ne sono stati tanti ho cercato diciamo di premiare non solo l'affare in sé quindi l'aver pagato poco la cosa ma anche la rarità e l'aspetto diciamo spettacolare dell'oggetto che ho comprato quindi oggi vedremo principalmente cose grosse che siano carte che siano pacchetti che siano lotti che sono la cosa più bella di questo video ho ritrovato le foto o i video di tre lotti secondo me pazzeschi di cui ho parlato diverse volte ma che non avevo mai mostrato quindi spero vi piaccia questo genere di video premetto subito che quando ho comprato queste carte i prezzi erano totalmente diversi e quindi a molti farà diciamo impressione vedere certi prezzi però erano tempi diversi c'erano interessi diversi ed è bello anche vedere un po' come è cambiata la situazione la classifica sarà partendo dal decimo posto fino ad arrivare al primo posto in cui ho lasciato una carta per me molto simbolica che sapete che carta è uno perché ovviamente è stato un affarone e due perché è la carta da cui è partito tutto dato che il video sarà abbastanza lungo dire di partire subito al decimo posto troviamo i pacchetti skyridge e aquapolis ossia questi qua allora pacchetti italiani sigillati presi in diversi periodi allora questi quali comprati dall'america da un venditore molto molto grosso e famoso in america che aveva molti agganci con la wizard e che per un motivo per l'altro va appunto questi pacchetti questi quali comprati in lotto ossia quattro pacchetti skyridge quattro pacchetti base premedizione fosse premedizione base unlimited non mi ricordo cos'altro pagati circa 200 euro a pacchetto al momento non so sinceramente a quanto stanno ma penso siano sopra il 1000 1500 a pacchetto quindi sono stati un ottimo acquisto soprattutto perché quando comprai questi pacchetti era uno dei pochissimi quartetti con riconosciuti quindi è stato un un ottimo acquisto soprattutto dal punto di vista proprio di idrarietà fu uno dei primi a portare appunto il quartetto online su youtube e adesso invece ne sono usciti diversi quindi non c'è più questa novità però sicuramente quelli che comprano adesso li compreranno a di più quindi ottimo acquisto anche questo qua come dicevo anche ci ho messo sempre al decimo posto anche pacchetti acquapolis questi qua invece pacchetti è un po più semplice a trovare quando ho comprati io in realtà erano abbastanza semplici e si trovavano su uno dei siti diciamo principali in italia a 16 euro a pacchetto ho avuto la fortuna di riuscire a comprarlo che dopo un poco sono andati diciamo sold out e quindi per tutti e quattro ho pagato meno di 70 euro che per adesso un prezzo assurdo questo era il decimo posto siamo partiti subito alla grande nono posto troviamo lui non proprio lui però diciamo un suo compare che il la carta al nono posto purtroppo non ce l'ho più ma è il pikachu gold star comprato a lucca nel 2014 2015 in una bancarella di quelle che si trovavano al di fuori del padiglione games comprata a 5 euro era perfetta era davvero in condizioni pazzesche e una curiosità davvero interessante di questa carta è che al tempo già ce l'avevo e quella specifica carta la diedi a un ragazzo americano che collezionava solo pikachu questo ragazzo la inviò non so se per sbaglio volutamente in psa psa erroneamente la gradò in quanto non gradiamo carte italiane e semmai diciamo in giro per i vari gruppi o su instagram vi capitasse di vedere un pikachu italiano psa 9 sappiate quello era mio pikachu comprato a 5 euro a lucca questo è il nono posto ottavo posto invece troviamo carta di cui ho parlato nell'ultimo video ossia lui questo a differenza del pikachu è proprio la carta che ho comprato in fiera a imola direi da un ragazzo un ragazzo padre figlio che diciamo che conoscevo in realtà di vista comunque frequentano diverse fiere che io frequento e quindi già ci eravamo visti altre volte sfogliando gli album non trovai niente di interessante che mi serviva mi fermò dicendo però che aveva anche un'altra scatolina che aveva appena ritirato tra cui lui le condizioni erano pazzesche anni direi 2016 2017 e me la diede per 10 euro io già sapevo comunque che era una carta abbastanza complicata da trovare in condizioni pazzesche mi mancava e quindi la presi al volo e ancora la tengo diciamo in collezione davvero tanta roba bellissima questo qua poi settimo posto invece troviamo il primo lotto di oggi sono un po di foto adesso vediamo se riesco a farvele vedere ma direi di aver studiato bene la cosa ed eccolo qua questo è il lotto di cui parlavo qua probabilmente non si vedrà bene però adesso andiamo a vederlo più nel nel dettaglio indicativamente sono sempre quegli anni lì quindi diciamo 14 15 16 a cavallo di quegli anni questa quale visione di insieme di tutto il lotto già più o meno qualcosa si vedrà adesso vi faccio vedere uno zoomino della parte superiore già divise diciamo un po per set qua ci sono diverse gym neo però dopo andremo a vederlo ancora meglio e questa è la parte inferiore vedete già qualcosa di un po interessante qua in basso cosa diciamo sempre visione di insieme andiamo a vedere pagina per pagina un po di promo poi abbiamo un po di base non so se era il set completo ma secondo me c'era molto vicino c'era il charger c'erano quasi tutte le oro c'erano in realtà tutte anche qualche prima edizione qua c'è il venusaur prima pagina mi ricordo se c'era qualcosa a dire di no poi vabbè salto ovviamente le comuni non comuni avevo fatto solo le foto rare abbiamo il jungle non completo però molta roba c'era fossil sempre limited team rocket col dark rai true le gym quando c'erano un po più numerose mentre le sfoglio voi provate a pensare a un valore che potreste pagare questo lotto alla fine vi dico quanto l'ho pagato continuiamo con le gym poi abbiamo le gen charge tra cui il charizard le rare poi le neo genesis mi sa che questo qua era completo come set tra l'altro il typhlosion prima edizione che è una carta niente male sempre neo genesis queste qua sono le ex drago più altre ex a caso comunque roba un po più recente ma neanche troppo in realtà mi sa che erano le cose più recenti che c'erano in quell'otto iniziamo ad andare sull'interessante qua abbiamo le aquapolis tutte e tre le crystal quindi kingdra lugia e nido king tutte queste qua sono olografiche e qua invece abbiamo qualche rara reverse o comunque rara nonolo neodestini tra cui il tyranitar prima edizione il dragon head prima edizione poi mi sa che c'era anche il light dragon head prima edizione anche omastar e pilota non ci vedo bene perché comunque sono carte sono foto da un po' di lontano lo schermo piccolo non vedo benissimo però vuoi siccome la vedrete meglio di me anche queste qua tanta ro comunque le destiny sono sempre costate tanto poi neo discovery tantissime holo qualche rara nonolo neo revelation una marea tra cui blissei ampharos e selby prima edizione che non sono affatto facile da trovare e anche il porigon direi sì qui c'era lo o entei e altre carte varie intanto continuate a fare la somma mentale expedition tra cui due charizard uno reverse e uno misacralo grafico che è dietro sempre expedition ex rubino e zaffiro eccolo qua le skyridge tutte queste qua erano olografiche fino a direi vaporeon c'era anche l'umbreon tra l'altro il flareon il gyarados che sono carte che costano un botto e in fondo abbiamo chilesar crystal reverse che mi sembra fosse messo non benissimo però non puro diciamo era un light played crobat e kabodops olografico e questo qua diciamo che era il primo lottone vi faccio di nuovo una foto di insieme così ce l'avete in mente eccolo qua e secondo voi quanto posso aver pagato un lotto del genere lascio qualche secondo per pensare considerate comunque c'hanno le crystal tutte le holo tante prime edizioni le carte comunque belle grosse e anche le h di skyridge aquapolius che non sono stato valutare questo lotto al tempo l'ho pagato 400 euro più spedizione prezzo pazzesco e considerate che l'ho voluto mettere come settimo posto quindi ci aspetta ancora di peggio ci aspetta di peggio perché al sesto posto ho deciso di mettere delle carte che più che per il prezzo ho considerato per la rarità e anche un po' per il prezzo ossia le mie uniche carte in copia unica cioè le 7 vs italiane non potevano metterle in questa classifica le prime 4 pagate molto poco direi siano 1, 2, 3 e 4 queste qua davvero pagate pochissimo carte che non erano ancora conosciute quindi sono riuscito a fare un buon prezzo anche perché io stesso non sapevo un valore e non lo so tuttora e poi le 3 successive che ho comprato sia il Rapidash di Karen, Giraffa di Pino e il Munchan di Pino per chi non sapesse che carte sono e magari le vede per la prima volta queste qua sono carte stampate per la Tropica Mega Battle del 2001 direi sono prese dal set vs che come saprete è stampato solo in giapponese però queste qua sono in italiano perché sono state stampate a uno dei finalisti di questa competizione in cui furono stampati un deck che era il deck di T-Writer nella lingua madre del finalista c'era appunto un ragazzo italiano e quindi gli furono stampate questo set formato da mi sembra 17 carte gli sono riuscito a recuperarne 7 e sono appunto in copia unica sì non esistono altre mi piacerebbe recuperarne altre però già diciamo è stata un'impresa raggruppare queste 7 carte pazzesche che tiro fuori in occasioni speciali e questo diciamo che era un ottimo palcoscenico per mostrarle continuiamo con il quinto posto altre carte a cui tengo tantissimo ossia Espion e Umbreon italiane queste qua comprate nel 2014 direi anche queste qua erano carte non conosciutissime nel senso che si vedevano davvero poco non si conosceva la reale rarità di queste carte e io allora le ho pagate 250 euro la coppia ossia 125 euro la carta al momento dagli ultimi venduti direi stiano sopra comunque 1000 euro l'una 1200-1500 ci sono prezzi così e le ho pagate 125 euro erano altri tempi erano carte appunto come dicevo che non erano conosciute quindi l'interesse non era tantissimo quindi ho approfittato quel momento per prenderle comunque carte pazzesche sono effettivamente queste due qua che ho comprato tanta roba bellissima sapete comunque che attaccamento ho queste due carte perché mi piacerebbe fare tutte le lingue iniziamo a vedere roba grossa anche se effettivamente roba piccola per ora non ne abbiamo viste e ho deciso di mettere al quarto posto due carte pazzesche che purtroppo non ho più ma che ho fotografato appena ricevute ossia l'oro carte assurde sono due Charizard Shadows prima edizione BGS 9 all'epoca pagate 2500 euro l'una compresa la spedizione date via purtroppo a relativamente poco sono riuscito a darle via solo perché ero diciamo riuscito a comprarne un'altra che invece ho ancora qui al momento e saprete chi è ossia lui che invece a differenza di quello di prima è un PSA è una scelta che ho fatto tempo fa anche se adesso forse un po' mi mangio le mani però ci sta nel senso che qualche errore va fatto e questa è una cosa di cui obiettivamente mi pento però sono carte assurde sono contento di averle avute per le mani averle trovate è relativamente poco per le carte che sono comunque costano tanto ma per le carte che sono e che erano erano prezzi ottimi questo era il quarto posto e entriamo sul podio con un altro lotto forse il lotto più incredibile che io abbia mai comprato ne ho parlato tantissime volte questo lotto ma non l'avevo mai mostrato non pensavo neanche sinceramente di avere ancora le foto ma sono riuscito a ritrovarle non so come in un file in un vecchio computer ho ritrovato le foto sono tantine però diciamo che sarà un crescendo di rarità e di prezzo a differenza del lotto di premium questo qua l'ho pagato un pelino di più ma le carri sono in dentro sono pazzesche e sarà divertente anche qua vedere un po' quello che voi pensate potesse essere un prezzo a cui comprarle e quale secondo voi è il prezzo oggi considerate che la maggior parte di queste carte le ho ancora quindi sono tutti nel mio album ho mandato una grossa mano all'epoca per completare set e per mettere a parte un po' di carte speciali che ho ancora nell'album nero ossia quello quello delle carte appunto speciali partiamo con l'otticino sono tante carte queste qua erano un po' carte curiosità erano del lana ossia diciamo la compagnia aerea giapponese che hanno fatto queste carte tra l'altro c'era anche il biglietto gold col pikachu questo qua purtroppo non ce l'ho più poi un po' di ex nuove di mare bianco giapponesi italiane c'era un po' di tutto in questo lotto era proprio un lotto misto se lo vedete sono inglesi italianci e di tutto sempre ex vecchie vado un po' veloce perchè di roba ce n'è da vedere full giapponesi e inglese altre full dei set neri bianco ma qua tanta roba c'era il Mewtwo il Mew, Lo, Oh che già stavano tanto Rayquaza altre full un po' di ex un'altra pagina di full le due gold di legendary treasure poi c'erano le radiant collection altre full art sempre di quell'epoca lì livello x vecchie qualche asso tattico le prime qua c'è il ministero degli arceus in inglese che qua l'ho dato via litografie prime SL di richiamo delle leggende le leggenda questo qua era qualche promo qualche fuori serie ci sono anche il trio di uccei leggendari che abbiamo visto l'altra volta nel video collezione un po' di shiny altre prime promo qua invece diciamo c'è un po' un miscuglio prima di arrivare la parte davvero interessante qua c'è anche uno shiny steelix qualche altra carta a caso un miscuglio uno shiny magicarp questo charizard ex quello che c'è ancora nell'album un altro shiny steelix un altro charizard ex full fuori serie varie nulla di che sempre carte miste qua c'era un leggende di collection charizard reverse un entire gold star un altro mu e direi che adesso partiamo con le cose un po' più grosse ossia le gold vecchie charizard blast toys secret dei set neri e bianco secret gold charizard organoplasma altre gold varie tutte le carte che comunque costicchiavano qua abbiamo un po' di ex tra cui lui e l'umbra che sono forse le più rare carte miste charm and air squirtle di mcdonald altre ex qua partiamo invece con le cose più vecchiotte abbiamo qualche holo vecchia c'è un zappos prima edizione pagina un po' vuote però tante cose interessanti set base fossi qualche neo gym poi queste sono le ultime foto abbiamo set base charizard prima edizione blast toys prima edizione un venusauron charizard unlimited e charizard blast toys giapponesi adesso nelle foto successive capirete di che lotto si trattava shining geridos giapponese inglese shiny mu le crystal di skyridge questo qua che vedete qui è il mewtwo square cut quello che c'è ancora nell'album con gli angoli quadrati un mewtwo set base prima edizione le shining inglesi e giapponesi che ho tuttora nell'album nero ma soprattutto le gold star espion umberon inglesi e il megalottone di gold star giapponesi questo qua è il famoso lotto da cui vengono tutte le mie gold star giapponesi e qua le vedete sono queste qua più appunto quelle che abbiamo visto nella pagina precedente questo qua è un lotto davvero pazzesco diciamo che molte foto in realtà le ho tagliate perché erano cose meno interessanti magari erano le holo dei set neri bianco e cose così e non era interessante vederle però c'era molto altro erano tipo due album grossi così queste qua erano le più interessanti da far vedere così da che c'erano tutte le gold star giapponesi le shine giapponesi le shine inglesi tutte le car che abbiamo visto prima le crystal era un lotto davvero pazzesco secondo voi quanto l'ho pagato? come dicevo prima non l'ho pagato poco come l'altro però effettivamente era un lotto assurdo quindi ci stava a pagarlo un po' di più per curiosità se vi va scrivete nei commenti quanto avevate immaginato ovviamente pur sapendo il prezzo che vi dirò scrivete comunque onestamente quello che avevate detto è solo un gioco giusto per per capire i vostri pareri questo lotto l'ho pagato 3600 euro era tanto per per l'epoca ma diciamo che avevo visto del potenziale effettivamente ce l'aveva diciamo la cosa che mi rende più contento di questo lotto è il fatto che molta roba ce l'ho ancora e adesso diciamo il valore schizzata le stelle e se solo l'avessi venduta qualche anno fa diciamo non ne sarei pentito maramente quindi sono contento di perlomeno questa aver resistito e averle tenute questa era solo la terza posizione perché adesso abbiamo le ultime due al secondo posto troviamo un altro lotto forse meno scenografico di questo qua ma a livello di valore e prezzo non c'è paragone perché penso sia uno degli affari più incredibili che io abbia mai fatto ed è davvero una roba schifosa non so come ho fatto a comprarla quella volta lì a quel prezzo e l'ho comprato a Lucca nel 2016 proprio in fiera un ragazzo che vendeva questo album sono riuscito a prenderlo io a differenza dei lotti precedenti non sono foto ma sono video che però adesso ci guardiamo magari lo fermiamo nei momenti più interessanti e il lotto è questo qua appunto come dicevo lotto Lucca 2016 già vediamo un po' di roba interessante la prima pagina promette molto bene e questo qua davvero a ripensare un'idea di come abbia fatto a comprare quel prezzo lì perché non so dirvi già solo la prima paginona era un qualcosa di incredibile poi altre shiny abbiamo due gerdos tre magikarp e un crystal kingdra forse andrà un po' a scatti perché non lo so a considerare che sono tre video messi insieme per un totale di minuti 28 in cui sfoglio velocemente e sono tutte olografiche vecchie non so lotti così non penso se ne trovino più sinceramente c'è anche qualche prima edizione Porygon Togetic qualche reverse a caso bisogna ricollection come solite fermarlo voi per guardarlo meglio fatelo pure il crobat è olografico è bello vedere come è un po' come un lotto di quelli vecchi dove ancora si separavano le carte infatti abbiamo visto adesso tutte quelle erba poi ci sono le fuoco e così via un altro olo reverse vario i series qua c'è un ferralligator prima edizione neogenesis altre olo varie un vapore una che costava già tanto anche blastoise due vapore e un olo c'è un altro blastoise suicun oh oh neo revelation triflosion charizard olografico expedition mondo un primo edizione un altro charizard un altro charizard base un force prima edizione provate intanto a fare la somma mentale continuano poi si è andata il psico alakazam africa sky che costava un sacco qua c'è la leggenda del collection mewtwo mewtwo gli umbron che costano sempre tanto anche perché erano le holo sia copolis che skyridge che prima abbiamo visto il rocket rocket di rocket returns qua siamo quasi verso la fine iniziano le energie qualche oro giapponese come se come se adesso ci sono tipo gli allenatori si trainer allenatori lotto bellissimo questo è davvero troppo bello e qua finisce torno solo all'inizio per lasciare questo immaginina qua quanto l'ho pagato secondo voi questo qua come dicevo a livello di prezzo è l'acquisto più assurdo che ho fatto ci sono state migliaia di euro di valore adesso ancora di più purtroppo a differenza dell'otto di prima molte cose le ho date via nel tempo però magari qualcosa c'ho ancora magari l'ho sostituito non mi ricordo benissimo però sono carte più normali quindi è difficile tenere traccia di quello che è successo con le carte comunque quel lotto lì di due minuti e mezzo di holo sfogliate così rapidamente l'ho pagato 400 euro il venditore voleva venderlo così per l'epoca non era neanche un prezzo troppo furto in realtà perché comunque considerate che le shining si pagavano sulla cinquantina 40-50 quindi ci poteva anche stare in realtà poi contento il venditore contenti tutti siamo arrivati alla prima posizione come vi dicevo ho lasciato una carta che più che affare è stato anche un affare in realtà però l'ho messa qua per un aspetto simbolico perché è la carta a cui tutto è partito ossia lei il Charizard Crystal di Skyridge perché dico da cui tutto è partito perché non proprio questa qua che vedete qui è stata la prima carta che ho trovato in un mercatino nel lontano 2012 in cui era una fiera di paese normalissima non era un mercatino era proprio una fiera di paese e c'era una sorta di mercatino dell'usato e quella signora aveva un album di carte io ancora non collezionavo o perlomeno avevo collezionato da piccolo ma non avevo ancora ritirato fuori le mie carte quindi era proprio l'inizio di tutto mi misi a sfogliare questo album e vedi il Charizard era una carta che io da piccolo non avevo mai avuto il Charizard che costava tanto e purtroppo non potevo permettermela costava 30 centesimi e ho detto sai che mi tolgo questo sfizio e me la compro comprai questo Charizard Crystal non questo ovviamente questa carta qua olografica 30 centesimi e un Typhlosion neogenesis olografico unlimited sempre 30 centesimi tornando a casa e controllando un po' su ebay mi resi conto che 30 centesimi era stato un prezzo folle perché già costavano 30 40 50 euro e aveva pagato solo 30 centesimi e mi accese la scintilla e da quel momento inizia a girare tutti i mercatini ad accumulare carte che poi mi hanno portato ad avere questa collezione quindi questo qua è un po' il simbolo della rinascita della mia collezione l'ho voluto appunto mettere qua un po' come ringraziamento per avermi portato fino a qua e poi perché effettivamente l'ho pagata 30 centesimi è stato un ottimo affare so che siamo alla prima posizione ma ho deciso comunque di mettervi un extra ossia come saprete io ho detto più sempre diverse volte tengo un file con tutti i miei acquisti dove monitoro un po' quello che spendo per cercare di non spendere troppo e filtrando nella colonna degli acquisti gold star mi è uscita tutta la lista delle gold star che avevo comprato anni fa ho deciso di mettere al di fuori della classifica perché comunque non ho foto non ho niente da testimoniare ma c'ho solo l'elenco con accanto il prezzo e ve lo faccio vedere perché è comunque abbastanza scioccante la lista è questa qua non so se leggervelo io o lasciarele leggere a voi però vi leggo le più interessanti ossia c'è la gold star 35 euro pikachu 12 euro non so come fosse possibile entei e sui con quindi la coppia 26 euro cosa c'è di bello una kazan 14 euro comunque è stato quello che costava di meno un lotto con re quasi a gold star quindi non solo c'era il re quasi a gold star ma era un lotto 57 euro latios 30 latria dei giolto è un vapore è un flarium che sono quelli che ho ancora 130 euro 3x52 che tra tutte è quello che costava di più lotto con 4 gold star con re quasi a 168 rai q18 un altro chiesel gold star 140 euro proprio qua già ci sta un po' di più giardos 50 dracafé che è il chiesel francese 43 metagross 45 poi ce ne saranno altre diciamo che ho filtrato quelle più assurde come prezzo direi che siamo arrivati alla fine di questo video spero vi sia piaciuto non so se è venuto montato bene ma ho fatto del mio meglio era difficile diciamo mettere insieme foto liste video telecamera però ho fatto del mio meglio spero vi sia piaciuto come vi dicevo questo video porterà a una seconda parte in cui invece vi mostrerò o perlomeno vi racconterò quelle che sono state le mie non tanto peggiori affari quanto cose di cui mi pento di più ci metterò un po' a farlo quindi diciamo che lo voglio fare tra qualche mese per lasciare un po' di di spazio nelle tra i due video io come sempre vi ringrazio per aver guardato il video spero vi sia piaciuto ci vediamo sabato con una sistemazione tranquilla per tutti i nuovi visitatori che sono arrivati in questo video vi ringrazio per aver guardato spero vi piaciuto i miei video se volete vedere altri video della mia collezione sfogliate nelle playlist c'è un po' di tutto noi ci vediamo sabato lasciate un bel se vi va iscrivetevi se non avete fatto ci vediamo nel prossimo video ciao ciao